E' un fuoco di fila quello aperto dal Movimento 5 Stelle sul sistema idrico ed idroelettrico della regione dell'Umbria. Il movimento pentastellato annuncia una raffica di interrogazioni a tutti i livelli, sulla cascata delle marmore, sulla qualità del flusso ecologico dei fiumi e sulla realizzazione del grande acquedotto Scheggino Terni. La regione sta per predisporre il nuovo piano di tutela delle acque, ma abbiamo scoperto con documenti probanti che sono altri a scrivere questo piano. Sono coloro che dovrebbero da tempo aprire la cascata delle marmore, che è un bene naturalistico unico al mondo, e che tuttavia la detengono chiusa in questo modo. E' del tutto illegale. Noi vogliamo chiudere gli inceneritori e aprire la cascata delle marmore al turismo, in questo momento così difficile, legato chiaramente al sisma, ma anche a quella che è una vocazione naturale di quel bene, così prezioso indubbiamente per Terni e per l'Umbria intera. Il tema è quello appunto del rispetto delle normative internazionali sul deflusso minimo vitale, cioè lo stato ecologico del fiume, ma anche i suoi aspetti di richiamo turistico e commerciale. Sappiamo anche, perché questo lo definisce la regione, che lo stato del fiume Velino nella sua chiusura, diciamo la chiusura del bacino del fiume Velino, è scarso lo stato di qualità dell'ecosistema. Quindi bisogna assolutamente provvedere. Tuttavia si procede con sperimentazioni e studi infiniti soltanto per bypassare le normative. Questo non è più accettabile e noi faremo in modo, dopo decenni, dopo quasi 90 anni, di far riaprire la cascata delle marmore come va conformemente alla legge. La conferenza stampa è stata anche l'occasione per il consigliere di Trevi, Simone Moretti, di parlare dello stato delle acque del Clitun e del Marroggia. Dopo gli incidenti dell'Umbriaoli di Campello, Arpa racconta fu incaricata di valutare lo stato dei fiumi nella zona. Le analisi portarono alla bonifica, ma i fanghi estratti venivano depositati lungo le sponde del fiume, con conseguenze visive e olfattive che lasci immaginare. Dopo le nostre denunce, il comune di Trevi a maggio 2015 ha convocato una conferenza stampa dove ha contestato tutto quello che avevamo denunciato. Qualcuno in quella sede mi accusò di terrorismo ed oggi, guarda caso, è indagato per quella bonifica. Ultima questione sul tavolo, l'acquedotto Pentima Terria. Come già annunciato, ha detto Thomas De Luca, presenteremo tante interrogazioni in merito alla realizzazione dell'opera che vanno dall'affidamento dei lavori alle modalità con cui stanno procedendo. Giorni fa, aggiunge la Sì, si è trovata costretta a presentare una variante al progetto. Occorre un consolidamento delle pareti rocciose, non c'è acqua da captare e quindi vorrebbero scavare altrove e modificare il tracciato. Noi daremo battaglia. Noi daremo sì più vite. Noi daremo battaglia. Noi daremo battaglia. Noi daremo battaglia. Noi daremo dentti, che lo faremo tua Roma.